Un pari che forse smuove un pochettino la classifica, avete fatto una gara attenta dal primo fino all'ultimo minuto, qualcosina in più forse si poteva chiedere, la sua analisi? Sì, sicuramente un pari che muove la classifica, oggi è un risultato che ci rende sicuramente contenti potevamo fare qualcosa in più nel senso che potevamo avere più coraggio soprattutto nel primo palleggio, nella prima costruzione quando l'abbiamo fatto, secondo me abbiamo messo in difficoltà anche il Teramo l'approccio alla partita è stato importante, nei primi 20 minuti abbiamo avuto le nostre chance soprattutto nella prima pressione, poi è venuta fuori la qualità del Teramo, dei singoli nel palleggio, ci siamo schiacciati un po', abbiamo concesso qualcosa di troppo però al di là della traversa e di un paio di situazioni in mischia credo che il pareggio tutto sommato ci possa stare La squadra comunque che non è costruita l'area canatese per stare lì sotto? La squadra non era stata costruita per stare sotto, è chiaro che poi all'interno della stagione ci sono tante dinamiche, paghiamo sicuramente gli infortuni dei nostri giocatori principali in questo momento abbiamo una squadra molto giovane, piena di under che mi sta dando tanto, mette intensità in ogni partita spirito di sacrificio e in questo momento credo che questo è il massimo che noi possiamo fare Grazie Grazie Grazie